eh si è vero no e beh ti è piaciuto? ci credo com'era il mood? il culo di quella? era bello no il mood com'era il mood? il mood com'era? il mood c'era una volta mood com'era? ma che cazzo dico parla italiano? quanto? il pennellino vaffanculo no si 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 oh adesso sto meglio ecco l'occhiolino da tagliatella doppio triplo eh ma come sono fatti sti tagliatelle? sono fatti buonissimi ragà ma guardate che lavoro guardate che spettacolo va 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 la farina se lo si attaccano qui un pacco dentro questo pacco guardate che giubbotto è stupendo è la mia amica paola che ringrazio tantissimo grazie grazie mille fa fa te sta a chiamare te sta a chiamare te sta a chiamare fa sente te sta a chiamare speciale la pasta con che? con fava e prosciutto fava e prosciutto e pomodoro tanta roba federico favo favo attenzione sembrava che non dovesse nevicare invece sta nevicando si stanno abbassate le temperature tutte quante basse 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 ortisei canazzai madonna di campiglio serva di valgardena attenzione tutte le piste aperte tutto sta nevicando è nevicato guardate quanta neve ha fatto è composto incredibile ha fatto la neve l'ha aperto tutto skillift se giovia vuoi via o vuoi via o rimango qua o vuoi via vuoi via dopo sto qua no le minacce no attenzione arzughe non è possibile che ogni volta che sto mangiando mi sta a rompi coglione ma tu arzughe o no per sapere per sapere e dopo che fai sempre 70 grammi di pasta guardate qui adesso sono 70 prima erano nette in mezzo è uno il papa si dimette va via la rabbia di gohan un'altra canzone si fa si fa un'altra canzone papa si dimette bella si si il papa si dimette il papa è cattivo e tu bombe il papa vattene boom boom così capito il papa vattene per noi dai dai dillo tu non l'ha detto basta dai dillo il papa lascialo perdi lascia il vaticano per favore vedate il lascia va là dimettiti adesso papa dimettiti please dai va via va via va via va via va via va via ma ti sta a unire non questo ci vuole ma papa dimettiti p***e è anche internazionale no ma se ti mette le suoi sono c***e sue ma che com'è ma tu fatti i c***e com'è com'è se ti mette o non ti mette sono c***e sue tu fatti i tuoi ok questo è il titolo il titolo che c'ha nonna marì c'ha una sorca davanti a dirlo tu hai visto qualcuno che c'ha la sorca dietro? ma e anche tu orai bella sorca andreone grande oh no oh no eh dove ti ho portato eh cos'è eh sono io tu sei dove ho portato no fa il bagno sì eh dai 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 famo il bagno seguo dai no famo il bagnetto non ho mai conto la piscina te dai no fa il bagnetto sì devo finire le riprese ti dispiace un pò? di che? che sono finite le riprese eh insomma ti piace però eh eh beh tutte queste gnoccolette qui eh che esperienza è? mi si pulivano gli occhi sì hai fatto una m***a esperienza eh eh insomma e per i 90 anni hai capito? certo la figa c'era? uh tanta ti è piaciuto insomma eh? eh beh eh vedete che si diverte vi faccio vedere la stella adriatica quest'estate vi aspetta ancora è tutto work in progress ma guardate che spettacolo ragazzi vi dico anche che il ristorante è veramente veramente top 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 guardate che bello qua è buona? ma più indietro? beh com'era ieri? ma c'è indietro? eh sì sì ha detto questa è buona ah è scoperto d'acqua calda io ho detto ma quella che sta da ora che l'ho vista io che buona quella che ma lui parlava della scena non stavo a metro c***o è il c***o ma come ce l'aveva il c***o? no dai il c***o che l'aveva come ce l'aveva? è bello eh come ce l'aveva il c***o? no come ce l'aveva il c***o? stavo al c***o che c***o ne trovo? molto di più come ce l'aveva sto c***o? è rotto no no che c***o? l'ho visto il video sì finalmente ti posso dire una cosa? oh sì no no dimmi il video dove va ad andare giovanni? è una bella esperienza ti è piaciuta? tanto tanto quel che mi fai vedere tu non l'ho visto mai non me l'ha fatto vedere mai bello 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 sono contento dame un bacetto andiamo a casa adesso che sei stanco sei stanco? no no lui non è mai stanco ragazzi stiamo al top però c'è fame no ma non manco fame andreone c'è casa no più caso passo tutto tutto vai 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 Sì, va bene. Ma parti o no? Vai! Non c***o più, vai! Non c***o più, vai! A ragazzi, a tutti, 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 tutti quelli che hanno partecipato a questa bellissima esperienza, veramente, me la porterò dietro per tanto, in più, fare una canzone con nonno è stato, no, vabbè, sentirete, la sentirete, spero, più possibile, perché ci abbiamo messo tutto, 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 tutto. E ringrazio anche voi che eravate a casa a sostenerci, da domani si ritorna più carichi che mai, io adesso so cotto, quindi buonanotte e grazie mille.